In un teatro sperimentale gremito, con grande rappresentanza di studenti delle scuole del territorio, il Comune di Pesaro questa mattina ha omaggiato e celebrato la giornata della memoria. A salire sulle palco per primi sono stati rappresentanti delle istituzioni locali, tra cui il sindaco di Pesaro Matteo Ricci, il prefetto Emanuela Saveria Greco, il presidente della provincia Giuseppe Paolini, il presidente del consiglio comunale Marco Perugini, l'assessore alla crescita Camilla Morge e la dirigente dell'ufficio scolastico provinciale Alessandra Belloni. Un unico filo comune in una giornata intensa di emozioni, quello di recuperare la cultura della pace, dell'uguaglianza e della libertà. Ogni anno proviamo a coinvolgere sempre più studenti, sempre più studenti perché noi abbiamo bisogno di fare un lavoro profondo sulla memoria e sugli accadimenti più drammatici, disumani della storia dell'umanità. È uno sforzo quotidiano che dobbiamo fare, che vivi in particolar modo in queste giornate, ma è un dovere, è un dovere per chi come me rappresenta le istituzioni, è un dovere per la scuola affinché certe atrocità non capitino più. Questa giornata è il frutto di un grande lavoro che prosegue da anni e vede il protagonismo della rete degli istituti scolastici superiori che anche quest'anno l'assessora Camilla Murgia ha coordinato nel lavoro che si svolge durante tutto l'anno e ne vede la restituzione oggi. Un lavoro di squadra che non sarebbe stato possibile senza il convolgimento corale di tante istituzioni del nostro territorio. Un ringraziamento davvero non scontato alla signora Prefetto per aver consentito che la celebrazione di questi momenti istituzionali avesse un valore concreto e non retorico. Gli appuntamenti dedicati alle zone della memoria sono poi proseguiti con la consegna delle medaglie d'onore della Prefettura di Pesaro Urbino a Silvio Alessandrini, Michele Gallizioli, Settimio Guidi e Luigi Quarti, ritirati dai familiari, per poi passare ad un intenso momento di musica e parole organizzati insieme alle scuole della città. È una cosa che non so descrivere perché averla dopo tanti anni, tanti anni, un po', no? Sarebbe stato bello che lui fosse presente, no? Però siamo riusciti a trovare il verso per avere questa medaglia e quindi grazie lo stesso. Il tempo ne è passato perché abbiamo cominciato a riguardare, no? Con il fatto del computer te vai a vedere dentro queste cose, cercare di scoprirle perché prima eri talmente preso da tutti i racconti suoi e quindi via, no? E poi Vandoni? E poi sono un po' subentrata io perché, infatti prima volevo dirlo, perché è stata una promessa che ho fatto a mio padre, perché io dalla famiglia di mio padre, mio padre che non c'è più è mio zio e quindi questa promessa è stata mantenuta. Mi ci è voluto quasi due anni, un annetto e mezzo tutto, sia per avere anche degli altri fogli dove testimoniassero ancora di più tutto ciò che era avvenuto, il suo passaggio, il foglio matricolare e tutto quanto e sono dovuta andare all'archivio di Stato che ringrazio per questo e mi sono proprio messa in contatto con il Ministero Roma e da lì dopo, ecco, circa un anno e mezzo la risposta di questa giornata, di questa cerimonia. Il nostro padre ci raccontava ma per quanto riguarda la mia esperienza, essendo molto piccolo, non gli ho dato mai tanto peso fino a che non abbiamo scavato con la documentazione che abbiamo trovato in questo anno prima della medaglia e lì ho capito veramente quello che hanno passato. L'emozione è grande anche perché questo riconoscimento so che non c'è da tanti anni e finalmente appunto si sono decisi a dare un riconoscimento a queste persone che hanno sofferto particolarmente nei lager. Mio padre ha anche fatto la ritirata di Russia per cui ha cominciato con la guerra d'Africa e per dieci anni, aveva vent'anni ed è tornato che ne aveva 31. Mio padre raccontava veramente poco della guerra, era sempre molto emozionato quando lo raccontava, sì, per cui le testimonianze non sono tante. Quello che ricordo è che era rimasto sepolto, era scoppiata una granata e per cui è rimasto sotto terra e i commilitoni sono riusciti ad estrarlo vivo.